Allora mister, cosa dire, è un coppione già visto qui al Baldassarre Sinopoli di Soverato, la squadra tiene per un tempo intero, poi non è che si disunisce perché bisogna anche far vedere gli altri avversari. Sì, voi avete visto la partita, analizzatela voi stessi, su tre errori nostri clamorosi, loro ci hanno punito perché giocano con caparbietà e agonismo in campo, cosa che noi non mettiamo, perché siamo qua a parlare sempre delle sconfitte perché, immeritatamente aggiungo perché non meritavamo di perdere in questo modo e in malo modo. Sì, almeno nel primo tempo c'è stato un vero e proprio contenimento, anche nel secondo tempo alla mezz'ora addirittura un gol già quasi fatto, per dire che sull'1-1 sarebbe stato diversamente. Cambiava la partita, avrebbe cambiato anche lo spessore, anche se non ho cambi in panchina perché la panchina era abbastanza corta, con due ragazzi con la febbre hanno giocato tutti e due, perché se noi eravamo in 9 e noi nemmeno in 11. Un altro c'è giunto alle due e mezza perché non si è allenato per tutta la settimana e non l'ho pregato di venire con me in panchina perché la panchina era già corta per se stesso. Quindi, vista, bisogna ricorrere ai ripari senza dubbio, il campionato è abbastanza lungo, però ci si può riprendere, però con le dovute precauzioni. Ho già detto alla società, se va sul mercato è al più presto perché abbiamo bisogno di andare innanzitutto a rinforzare la squadra perché non puoi apparire a fare un campionato di prima categoria in queste situazioni, in queste condizioni. A Gingosolo sono dei sacrifici che facciamo tutti, ma vanno loro in campo. Io non posso fare altro che mettere 11 giocatori a ruoli diversi perché mi devo inventare anche qualche giocatore che gioca nei ruoli nevralgici di centrocampo che non è neanche abituato. Allora, mister Alessandro e San Gregorio di Pona, certo, è venuto qui al Baldassarre Sinopoli, non dico per vincere, ma si è visto come ha giocato? Sì, noi siamo venuti sicuramente, ma non solo qui perché è nostra mentalità andare a fronte da tutte le partite dentro e fuori per cercare di cavare il massimo. Poi veniamo da un periodo sicuramente positivo perché abbiamo fatto quattro vittorie nelle ultime cinque partite per cui scalando diverse posizioni, adesso siamo, prima di oggi eravamo quinto in classifica per cui avevamo maggiormente l'obbligo di continuare su questa scia. Quindi anche oggi siamo venuti, nonostante tantissime defezioni, a cercare di continuare su questa scia e prendere tre punti per noi importanti, anche se diciamo che abbiamo fatto di tutto per complicarci le cose perché onestamente è quasi suicida da parte nostra l'atteggiamento che abbiamo avuto a portare una partita del genere a 10 minuti alla fine, ancora sull'1-0 risicato, avendo sbagliato tantissime per le gol però purtroppo è un qualcosa sul quale noi dobbiamo sicuramente migliorare. Siete nella parte alta della classifica, quindi le ambizioni? Guardi, noi l'anno scorso... Certo, mi rendo conto che dipende anche dagli altri. È chiaro che dipende dagli altri, però non dimentichiamo che il San Gregorio l'anno scorso è arrivato in finalissima di play-off perdendo i supplementari contro il Maida e giocando solo a testa altra nonostante che non era sicuramente quello l'obiettivo di inizio stagione invece era quello di fare un campionato tranquillo. Quest'anno abbiamo riconfermato un pochino tutti gli effettivi potenziandola con due o tre elementi nei punti laddove abbiamo ritenuto di potenziare ed è chiaro che cerchiamo di quantomeno ripetere quello che abbiamo fatto l'anno scorso con tantissima umiltà, senza fare grandissimi proclami ma lottando partita dopo partita. I ragazzi al di là un po' dell'eccesso di sufficienza e dell'eccesso di spreco sotto porta di oggi comunque lo stanno facendo per adesso va bene così ma è ovvio che ancora non abbiamo fatto niente perché dobbiamo non solo consolidare questa posizione ma dobbiamo fare di tutto per cercare di migliorarla il più possibile ancora il campionato è lunghissimo ci sono sicuramente grandi squadre davanti a noi però credo che con il rientro dei tanti assenti anche di oggi e con una maggiore autostima che cresce di partita in partita possiamo continuare su questa scia.